Prego Grazie Prego Grazie Avevo l'esclusiva adesso, stasera, caspita, se ne va? No, puoi continuare? No, tanto per me c'è la prima Sì Sto soffrendo, no, non suona, a me non dà fastidio A me dà fastidio Ok, grazie Ciao ragazzi Signore e signori, terzo segnale, terzo segnale, cinque minuti alla ripresa del spettacolo Si preparano i palcosciani con la signora Lucio, il signor Puccio 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 Aida Il signor Alaibo, il signor Kim www.quina2vision.com www.quina2son.com